Visto che ci sono qua dei rappresentanti di Bologna e che hanno lavorato anche ai patti per la cura del bene comune, l'idea di costruire dei patti per la cura dei beni comuni digitali è qualcosa che a noi sta passando per la testa. Sì, ci sono dei patti che hanno come tema il digitale, quindi è interessante sperimentarlo anche a livello regionale. Io oggi, Sofia è qui con me, Sofia sta facendo il tirocinio in fondazione e l'anno scorso ha partecipato all'Aboratorio Under, che è alla seconda edizione, quindi mi sembrava interessante farle raccontare direttamente, perché di fatto l'Aboratorio Under è una sperimentazione che prova a cambiare un po' il punto di vista per quanto riguarda la formazione. Fin dal linguaggio, questo era il claim dell'anno scorso, perché nel 2017 nascono i laboratori di quartiere. Io lavoro alla Fondazione Innovazione Urbana, l'ex Urban Center di Bologna, che per conto dell'amministrazione gestisce questi laboratori. A fine anno, dopo aver consegnato all'amministrazione quello che ci aveva chiesto, il bilancio partecipativo, linee guida su alcune politiche, abbiamo fatto un report totale. In questo report, che metteva insieme tutto, tutto quello che avevamo ascoltato, veniva fuori trasversalmente una preoccupazione dei cittadini che avevano partecipato ai laboratori verso gli adolescenti e i giovani. Il bolognese che partecipa ai laboratori ha molto timore per quanto riguarda il futuro dei propri figli, in maniera molto forte. Preoccupazione verso le nuove competenze. I cittadini che partecipano ai laboratori dicono che c'è bisogno di avere nuove competenze e capire come trasmetterle, quindi l'esigenza di cambiare metodo per dare formazione. Da questi due o tre spunti abbiamo fatto un percorso interno per capire quali sono le nuove competenze. Quindi c'è stato anche un evento pubblico, la Fondazione Golinelli, e c'è stato anche un percorso interno con educatori, cooperative, per capire come si coinvolgono i ragazzi. Perché avevamo capito che i corsi di formazione non funzionano. Cioè i corsi dove si dice internet è così, facebook si usa così, non funzionano. I ragazzi non ci vanno. Con grande frustrazione da parte dei docenti, ricordo, guardo Rita perché era lì con me, noi non sappiamo come coinvolgere i ragazzi, poi con una chat con duecento ragazzi loro dicono in tre secondi SRAM e ne coinvolgono duecento. E i docenti animatori digitali non toccano palla verso i ragazzi. Quindi ragionando su questo shock culturale abbiamo provato a innescare questo laboratorio Under. Ha visto, siamo al secondo anno, quindi l'idea era di cambiare modo. Quindi quali sono le nuove competenze, quindi nuovi media, quindi usare i social media, usare la fotografia, usare i video, usarlo in modo consapevole, usare i dati, quindi fare cose con i dati e fare cose con l'internet delle cose, quindi Arduino, Raspberry, eccetera, eccetera. Questi erano i quattro filoni su cui ci siamo concentrati. Questi sono i ragazzi, l'anno scorso Sofia in primo piano. Primo dato, non ha senso parlare di interculturalità, perché i ragazzi sono così. Cioè è una cosa che non si deve trattare, perché lo è. È molto più avanti di quanto possiamo immaginare. Quest'anno, l'anno scorso erano, non so se hai qualcosa da dire, l'anno scorso era un tentativo, quindi è durato un mese, con nove ragazzi che dovevano in qualche modo aiutare noi a raccontare il bilancio partecipativo, perché avevamo capito che l'idea di dire ti diamo il potere di fare quello che vuoi nell'ambito dei laboratori di quartiere e del bilancio partecipativo. Quest'anno abbiamo aumentato il numero, siamo arrivati al doppio, abbiamo aumentato i mesi, sono diventati sei con l'estate di mezzo, no bene, va bene, stiamo capendo delle cose, però l'abbiamo fatto in tre step. Il primo step è stato, bene, ti diamo delle competenze base, e quindi ti raccontiamo come si fa comunicazione, che cosa sono i dati, che cosa sono le stampanti 3D, e quindi proprio trasversalmente ti prendiamo e alziamo il livello medio delle tue competenze. Il secondo è stato, bene, cosa ti va di fare? Ti aiutiamo a farlo meglio. E quindi, era, bene, vuoi usare, c'hai il pallino della fotografia? Ti aiutiamo ad usare Instagram, in maniera evoluta. Vuoi usare e sbanettare con i dati? Bene, ti affianchiamo, guardo Pina, con l'agenda digitale, ti affianchiamo, chi ne sa, e ti aiutiamo a trovarne, per interpretarne. Ti va di far ragionare sulla strategia digitale? Bene, lavori con chi si occupa di strategia digitale dentro il comune, dentro la fondazione. Quindi era. Se posso. Già da questa fase, in realtà, noi del laboratorio Under, abbiamo ricevuto una competenza che è spesso sottovalutata, che è l'arte di imparare a fare una cosa che ti piace quando non la vuoi fare. perché spesso si cercano le competenze dei giovani, dicendo, ah, siete smanettoni, sapete già usare Instagram, sapete già usare Facebook, ma è molto diverso passare dal condividere il podcast che ascolto, o l'aperitivo che sto bevendo, al dover dire, domani mi devo alzare alle 8, perché devo pubblicare questo post, e non mi importa se ho fatto le 3, o se questa cosa mi piace un po' meno, devo trovare il modo di comunicarla in maniera ugualmente efficace, e devo venire a patti con la delusione di scoprire che i miei amici, i miei follower, che mi mettevano mi piace ovunque così, all'improvviso non lo fanno più, perché sto comunicando qualcosa di diverso, ed è stata una grandissima lezione di vita, e anche professionale, direi. Spam. Terza fase, è quella secondo noi più interessante, anche per quello che diceva Sofia, è ok, hai imparato alcune cose in più, ti abbiamo fatto fare quello che volevi fare, portandoti maggior consapevolezza, adesso però entri in un sistema più grande di comunicazione, che è la grande campagna di bilancio partecipativo, quindi ci saranno i giornali, ci saranno le radio, ci sarà la pagina Facebook del Comune, ci sono gli eventi, te cosa fai in tutto questo? Ti aiutiamo a farlo. E qui, e quindi qui, delle cose più creative, però anche banali, la tradizione in arabo di come si vota, ha le playlist per dei quartieri, per quanto riguarda i progetti, ha le incursioni con i partecipanti, i numeri sono incredibili, almeno l'anno scorso, quest'anno lo abbiamo ancora fatti, perché abbiamo finito da una settimana, domani abbiamo l'incontro definitivo per fare il punto, cioè l'anno scorso, quello che avevamo capito, è che con una spesa molto più bassa, con attività molto più ridotte, l'ingaggio che loro davano era incredibilmente più grande di quanto noi possiamo fare. Questi sono alcuni esempi dell'anno scorso, per cui interviste alla Giunta, interviste ai cittadini, podcast, in maniera insomma, tutta roba molto pensata da loro, abbiamo fatto la diretta Facebook per commentare in tempo reale i risultati del bilancio partecipativo, insomma, dei risultati molto interessanti, ed è stato bello vedere i ragazzi tesi nel fare le cose, perché era, ah, adesso andiamo in diretta su Facebook con il professor Grandi a commentare i dati del bilancio partecipativo votati da 14.000 persone, quindi era una cosa, e per noi era, proviamo, vediamo, anche se va male, non è che nessuno ce l'ha chiesto, però proviamo a fare così. Quest'anno, evidentemente, abbiamo alzato il tiro, per cui c'è stata una trasmissione televisiva su Facebook, Salotto Under, c'è stato parecchi articoli per quanto riguarda l'uso dei dati, un uso davvero interessante, innovativo di Instagram, vi porto qui alcune cose, quindi le playlist, come vi dicevo prima, il racconto dei ragazzi che incontravano i cittadini attivi nei quartieri, Instagram, le stories di Instagram in maniera corticella Warriors, no? Cioè, questo se le dice un comune, va sui giornali il giorno dopo, ma lo dicevano, lo hanno detto dei ragazzi di 20-22 anni, e la lampada che contava i voti con Arduino, no, la Sberri, credo, avevamo fatto, i ragazzi aiutati da Fab Lab Bologna, avevano fatto un accrocchio per cui ad ogni voto si accendeva una lampadina all'entrata di sala borsa, e quindi questo ci ha aiutato a fargli capire che quella cosa lì si può fare e ha un impatto concreto e in più era un aggeggio che ci ha fatto andare anche sul giornale, perché comunque era un'ennesima prova della creatività della campagna di comunicazione. Hanno fatto uno spot video e per cui insomma l'idea e qui chiedo a Sofia di venire dietro in maniera magari più esaustiva quello che abbiamo capito se riusciremo a farlo anche l'anno prossimo vogliamo farlo anche l'anno prossimo stiamo capendo in che modo con quali risorse è che ogni ragazzo deve avere ascolto e cura è molto faticoso ci sono competenze e caratteri davvero molto diversi e la lezione frontale davvero deve essere accompagnata da prese di posizione anche forti perché c'è una forte responsabilizzazione dei ragazzi ed è bello vedere che in qualche modo stanno prendendo la coscienza di poter esercitare qualcosa che noi non potevamo prevedere l'idea secondo me vincente di questo laboratorio è che uno fanno parte di un percorso reale hanno delle competenze che servono perché raggiungono delle fasce di popolazione che noi non raggiungiamo che noi come amministrazioni fondazione e due lo fanno in maniera inedita ed è su questo che ci deve essere l'interesse da parte nostra perché dobbiamo seguirli in qualche modo ammettendo di non capire esattamente quello che sta succedendo Sì diciamo che forse la dimensione più interessante è che da entrambe le parti c'è questa sorta di paura dell'ignoto perché noi la percepivamo da voi ma penso che si sia percepita benissimo anche da parte nostra questo stupore e questa paura nel realizzare che era venuto il nostro momento di non solo fare qualcosa ma di proporlo noi per primo io ricordo ancora la riunione che abbiamo fatto come diciamo feedback fra di noi alla fine di La Bander dell'anno scorso e io ricordo di aver detto qualcosa del tipo l'unico rimpianto che ho è di non aver capito prima di poter proporre cose così agevolmente e loro mi hanno guardato con un punto interrogativo stampato in faccia come dire ma come avevi delle cose da dire guardate sì perché le persone della mia età sono abituate in università anche nei lavoretti spesso a dover fare il giro delle sette chiese per poter proporre una cosa senza che nessuno se la prenda lo prenda come una non so un momento di superiorità o di ah mi vuoi venire a insegnare come fare il mio lavoro e sono tutte paure secondo me molto reali che noi ci portiamo dietro e che purtroppo frenano anche la nostra creatività che però ha bisogno di un indirizzo dall'altra parte perché se è vero che siamo molto competenti sotto certi punti di vista è innegabile che quando siamo molto giovani manchi la parte più gestionale una visione di insieme che ci permette di andare avanti in maniera più coerente che è diciamo una è fondamentale quando si è in campagna di comunicazione mentre la mia generazione è abituata a imparare a fare le cose magari velocemente ma per tentativi ed errori che è bellissimo è molto importante ma non ce lo si può sempre permettere e quindi una delle lezioni più importanti della bandera è stato anche quello imparare a governare la tua creatività e che un'idea bellissima sarà sempre bellissima lo è un po' meno quando arriva tardi purtroppo nel mondo reale funziona anche così e se mi posso permettere di reiterare un momento la dimensione più straordinaria da portare avanti di questo progetto è stato appunto quello di non creare un progetto calato dall'alto quello che voi avete visto le stories di Corticella Warriors non abbiamo avuto nessuno che venisse a dirci adesso trova una forma divertente per farci sembrare giovane è nato da noi noi siamo stati indirizzati siamo stati seguiti ma è un prodotto dei ragazzi delle persone che hanno fatto quella stories o quella playlist o quella diretta e penso che questo sia diciamo il focus su cui bisognerebbe riconcentrarsi forse a volte noi ragazzi abbiamo voglia di fare cose però purtroppo la leadership non nasce dall'oggi al domani e va un po' indirizzata e poi lasciata andata nel momento migliore grazie ci sarà stato un momento in cui c'è stata un po' di crisi tra quindi un pochettino dai una chicchina di qualcosa che è andato strano allora intanto stiamo parlando di pochi ragazzi nel senso che questo progetto va di parallelo a quello che succederà nei quartieri con i finanziamenti tipo a metro quindi 11 progetti che nascono e in qualche modo serviva per capire alcune cose anche se poi i tempi non sono stati così in sincrono quando una ragazza io non c'ero me l'hanno raccontato quando una ragazza di 22-23 anni si presenta nei quartieri a incontrare i volontari attivi per capire come raccontarlo si presenta con la birretta perché tranquillo andiamo a raccontare i cittadini su Instagram e no devi avere rispetto tu qua e questo è proprio perché nessuno gliel'aveva detto che non si fa così perché non aveva mai lavorato non aveva mai fatto nulla fuori dall'alveo università studente fuorisede eccetera eccetera no? è banale però ti fa capire ma no ma io volevo fare questa cosa qua ma questa cosa qua l'hanno già fatta in mille non sei inedito in questo no ma io secondo me questa cosa qua ok ma guarda te la sto dicendo io te la sto dicendo lei che ha un curriculum incredibile sul digitale ha lavorato con queste aziende quindi se tu fai un po' così forse no io voglio fare questo questo tipo di forme di apprendimento sono più difficili delle altre però però questo ragazzo adesso farà la tesi su questo questo laboratorio magari lo fa perché gli conviene o magari perché gli è piaciuto non lo sapremo mai però è rimasto è rimasto lì con fatica però è rimasto lì ok posso chiedere una cosa sì prego come l'avete trovato ah no non l'ho detto ah un bando a inizio anno facciamo una call pubblica che diffondiamo attraverso i laboratori di quartiere che diffondiamo attraverso le nostre mailing list andiamo però anche nelle università attraverso i contatti che abbiamo per esempio Sofia l'ha saputo a una lezione perché ecco questo è un grandissimo problema noi non sappiamo proprio trovarli ragazzi cioè non sappiamo proprio raggiungerli e quindi manca proprio l'aggancio poi magari l'idea può essere anche interessante ma è proprio e quindi quindi è cioè un bando l'idea è di dire non ci interessa ecco questo è interessante non ci interessa il tuo curriculum ma ci interessa cosa vorresti fare quindi è vogliamo che tu racconti la città con noi questi qua sono i temi dici cosa vorresti fare ed è capitato due volte insomma anche l'anno scorso dovevamo prenderne 6 ne abbiamo presi 9 quest'anno ne volevamo prendere 20 ne abbiamo presi 18 cioè non è mai come ti aspetti perché la risposta è l'anno scorso volevamo lavorare un ragazzo per quartiere idea sbagliatissima non si lavora per territorio ma si lavora per competenze io voglio fare instagram io voglio fare i video io voglio fare quest'anno abbiamo dovuto fare dei gruppi per cui ai ragazzi di open data non gliene fregava niente di instagram e il contrario ma proprio niente e quindi dopo le prime lezioni ma proprio a me non interessa io non voglio fotografare io voglio smanettare c'erano veramente dei ragazzi super smanettoni che anche molte ragazze che volevano usare i dati per capire quindi anche qui dei luoghi comuni che o magari abbiamo trovato noi 18 diversi dagli altri non lo so chiedo una cosa che ho ma tirocini curriculari? no questi no assolutamente alla fine del corso noi gli riconosciamo le competenze informali che hanno raggiunto stiamo vedendo se riusciamo a fare dei beige o no su questo stiamo ragionando proprio in questi giorni di fatto noi possiamo dire che ed è questo interessante perché devono pubblicare online sul loro blog quest'anno l'anno scorso abbiamo fatto un blog del progetto e quest'anno abbiamo fatto anche le pagina facebook e instagram quindi è tutto online per cui per ogni ragazzo noi possiamo dire si è occupato di questo questo e questo ed è online si può andare a leggere e questo è quello che possiamo dire no c'era una ragazza che era ancora in quinta superiore però era già maggiorenne e l'anno scorso invece quest'anno tutti i 18 ragazzi erano tutti universitari la cosa più interessante nella mia edizione nessuno era un bolognese doc nel senso stretto perché eravamo tutti o fuori sede le uniche due ragazze che erano veramente bolognesi nel senso che conoscevano Bologna la vivevano così una ragazza stava aspettando la cittadinanza era il suo decimo anno l'altra ragazza aveva già la cittadinanza però era della provincia di Bologna per esempio io sono la più vecchia ero la più vecchia del gruppo io faccio 25 anni e tra di noi si vedeva e mi è stato fatto notare più volte che io comunicavo già in un modo vecchio rispetto alle persone di 19 20 anni ho un amico che ne ha 23 neanche 20 che mi dice più di una volta manco me nonna quando scrivi su Instagram quindi in realtà è una cosa difficile già anche per noi se può essere di qualche consolazione è veramente è veramente difficile e molto competitivo diciamo che secondo me quello che funziona personalmente in realtà è quella che chiamiamo anche comunicazione di prossimità quindi in realtà agire per relazioni il che significa impiegare ovviamente molto più tempo perché non trovi dall'oggi al domani un influencer del piccolo gruppo come ha fatto presente lei ci può essere quello che ha molto seguito digitale o non digitale però non è esattamente un esempio che può essere coinvolto diciamo che si deve andare un po' a tentativi forse nel senso migliore del termine cioè più si conosce la comunità più ci si fa conoscere e più si è anche un po' meno percepiti come i perdonate il termine i matusa che vengono a spiegarmi come usare i social che io so già usare e più come persone che sono lì per te cioè questo ha fatto tanto devo dire cercare il più possibile di presentarsi come persone per loro anziché su di loro e questo era proprio scioccante per loro cioè il fatto di dire che idee hai come si fa facciamolo ed era ok tra righe no tra righe no mi devi fare un progetto entro dopo domani ah no ma c'ho allora non va online allora non lo facciamo ma no ma è bello hai detto che è bello certo che è bello ma devi farlo ah un video per fare lo spot video abbiamo dovuto mandare non so quante mail perché era ah ma ce l'ho tutto in testa è certo che ce l'hai in testa ma per fare il team per fare un video ci vuole un sacco di tempo te lo dobbiamo approvare perché stai facendo una roba per il comune di Bologna lo dobbiamo capire bene e dirti ok si può fare no e quindi era proprio l'idea del che non basta l'idea del garage no ah no facciamo adesso spacchiamo no serve lavoro e serve capire per finire allora i feedback che abbiamo l'ultimo Lucrezia che adesso sta facendo un tirocinio in una radio bolognese e l'ho incrociata due settimane fa e che mi diceva che in maniera molto semplice ah grazie perché mi avete dato coraggio cioè mi avete fatto capire che devo avere coraggio e adesso sono andato là e ogni settimana faccio un video con tutti i concerti che ci sono a Bologna se non me l'aveste detto voi non l'avrei fatto vale come indicatore secondo me sì è chiaro che qualcosa di più scientifico non ce l'abbiamo perché è molto difficile non è l'unica che ha trovato un agganzo professionale c'è chi sta già lavorando davvero e chi sta facendo i tirocini però insomma la direzione secondo me è interessante grazie allora penso un'esperienza molto bella grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti